Giulia ha scelto questo. Lo scrub Idramaris è a base di sali e di minerali marini ed è costituito per il 96,5% da ingredienti di origine naturale ed è senza parabeni. Applica sul palmo della mano e poi andiamo a massaggiare il prodotto sulla pelle umida di tutto il corpo. In questo modo esfoliamo la pelle e eliminiamo le cellule morte, ma allo stesso tempo andiamo ad idratare e a rivitalizzare la pelle stessa. In definitiva lo scrub Idramaris non è un semplice scrub, ma è un trattamento completo per il nostro corpo e questo perché contiene l'alga rossa con azione idratante, alga bruna con azione antiossidante e l'alga corallina che invece migliora la microcirculazione. Ma cosa usiamo dopo aver utilizzato lo scrub di Soa? Possiamo utilizzare il trattamento rassodante corpo Summer Ready, una coppia perfetta.